Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 30 giugno è santi i primi martiri cristiani. Oggi ricorre la giornata mondiale dei social media lanciata da Mashable nel 2010. È nata come un modo per riconoscere l'impatto dei social media sulla comunicazione globale e per riunire il mondo per celebrarlo. Tutti usano i social media ogni giorno e il modo in cui ci connettiamo con persone in tutto il mondo in modo semplice e veloce. La prima piattaforma di social media mai lanciata è stata Six Degrees nel 1997, fondato da Andrew Weinrich. Il sito web consentiva agli utenti di elencare amici e familiari e aveva funzionalità come profili, bacheche e affiliazioni scolastiche. Al suo apice Six Degrees contava oltre un milione di utenti, ma alla fine fu chiuso nel 2001. La prima piattaforma di social media moderna è stata Friendster nel 2002. Il sito web ha consentito alle persone di fare nuove amicizie in modo sicuro e conta oltre 100 milioni di utenti, la maggior parte dei quali in Asia. Oggi è anche la giornata nazionale degli sciaratielli. È la giornata internazionale del Mai Tai, celebre cocktail di ispirazione polinesiana a base di rum, Curacao, Orzata e Lime. Tra i nati in questo giorno abbiamo Silvio Orlando, 1957, Elea Massari, 1933. Tra i scomparsi ricordiamo la poetessa Maria Luisa Spaziani, 2014.